amici di fulvia le sue ricette benvenuti guardate che bella questa pizza rustica con la pasta sfoglia gustosa veloce e facile da fare ottima per un pranzo una cena veloce se avete ospiti all'improvviso è perfetta andiamo a prepararla allora prendiamo un pezzo di speck e lo tagliamo prima a striccioline di circa un centimetro e mezzo in questo modo vedete prendete uno speck già pulito sia dalla parte della cotenna e anche dalla parte superiore togliete la parte speziata e prendete la parte centrale che un po più morbida come vedete uno speck non troppo grasso una volta fatte queste striccioline andiamo a fare dei cubettini in questo modo ecco qua questa è la dimensione giusta non fateli troppo piccoli mi raccomando adesso prendiamo una bella provola affumicata e anche questo la tagliamo un po grossolana fette spesse di un centimetro e mezzo due centimetri poi facciamo i bastoncini e infine i cubetti mi raccomando non fate troppo piccoli altrimenti si sciolgono e si disperdono in cottura adesso in una ciotola versiamo la ricotta mi raccomando deve essere bella asciutta io ho usato una ricotta vaccina ma potete usare anche quella di pecora o di bufala insomma quale preferite l'importante che asciutta la lavorata un po e adesso andiamo aggiungere semplicemente un po di pepe e un po di sale e continuiamo a lavorarla incorporando bene il sale e il pepe che abbiamo messo mettiamo anche un goccino d'olio extravergine d'oliva diamo un po di gusto di sapore e giriamo per bene una volta girata per bene amalgamato i nostri ingredienti aggiungiamo tutta la provola affumicata che abbiamo già tagliato in precedenza ecco qua aggiungiamo anche lo speck e amalgamiamo di nuovo per bene mischiando tutti i nostri ingredienti ma amalgamiamo il tutto adesso è il momento di aggiungere invece l'uovo l'uovo servirà a legare il tutto a rendere tutto legato in cottura ovviamente quindi lo giriamo per bene amalgamiamo bene anche l'uovo e il nostro composto è pronto come vedete non ci vuole molto a realizzarlo è facile da fare veloce l'importante scolare bene la ricotta altrimenti viene troppo liquido in cottura e anche la prova deve essere asciutta mi raccomando altrimenti si va a va a rilasciare tutto il suo liquido in cottura questo è il nostro composto lo mettete da parte e adesso in una teglia rotonda andiamo a mettere un disco di pasta sfoglia sotto direttamente mi raccomando con la carta forno e andiamo a tagliare aiutandoci con una forbice la carta forno in eccesso in questo modo vedete in maniera tale che non fu riesce durante la cottura tagliate per bene prendete ovviamente una teglia in base alla grandezza al diametro della pasta sfoglia che comprate vedete deve aderire perfettamente alla base della teglia una volta fatta questa semplice operazione non ci resta che andare a mettere tutto il nostro composto all'interno lo distribuite per bene sulla base riempite tutti gli spazi e soprattutto uniformate la mi raccomando perché deve essere uniforme e la superficie deve essere uguale lasciate giusto mezzo centimetro nei lati nella nelle tutti i lati lasciate mezzo centimetro che servirà poi per poter chiudere l'altra pasta sfoglia che andiamo a mettere sopra perché viene una pizza rustica ripiena andate a far aderire le due estremità schiacciate per bene mi raccomando sigillate bene i bordi altrimenti in cottura si apre quindi sigillate bene schiacciate adesso con la forchetta andiamo a infilzare la parte superiore proprio per evitare che si gonfi e andiamo a pennellare con uovo semplicemente un po di uovo aggiungete giusto un goccino d'acqua per renderlo più fluido servirà a dare il colore in superficie a dare colore adesso andiamo a mettere in forno 200 gradi per circa una trentina di minuti e dopo una trentina di minuti eccola qua guardate che bella pronta per essere portata a tavola potete portare a tavola così intera o già tagliata la mettete a centro insomma e servirà in bandiera da tavola ognuno può tagliare la sua fetta e gustare questa prelibatezza che veramente si prepara in pochi minuti e vedrete che piacerà a tutti perché c'è quel sapore affumicato dello spec la dolcezza della ricotta l'affumicato della prova della prova insomma sapori comuni che piacciono a tutti non mi resta che salutarvi vi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube ciao a tutti da Fulvio alla prossima ricetta